Team Soviet Union, l'equipe del union sovieti. In Donetsk, number 20, numero 20, Eugenie Boleshikin. On defense, a la defense, number 2, numero 2, Vyacheslav Vyachesov. Number 7, le numero 7, Alexei Kazakonov. At center, Osan, number 11, numero 11, Igor Larionov. At right wing, a la droite, number 9, numero 9, Vladimir Kurutov. A la gauche, at left wing, le numero 24, No. 24, Sergei Makarov. The head coach, l'entraîneur chef, Mr. Viktor Tikhanov. The assistant coaches, l'entraîneur at one, Igor Dimitriev, and Vladimir Yursinov. And now, the starting line-up for Team Canada. In goes, Donny Philek, number 31, numero 31, Grant Fjord. On defense, a la defense, number 2, numero 2, Doug Crossman. Number 7, numero 7, Raymond Book. At center, Osan, number 99, numero 4, Wayne Gretzky. At right wing, a la droite, number 21, Emilio Vandia, Grant Sutter. At left wing, a la gauche, number 11, numero 11, Marc Messier. The head coach, l'entraîneur chef, Mr. Mike Keenan. The assistant coaches, l'entraîneur a joie, Monsieur Zompero, Mr. John Muckler, and Mr. Tom Watt. With Ron Roos, Dan Kelly back in Hamilton, and Team Canada's lineup before you with a couple of scratches tonight, Ron. Well, James Patrick has been bothered by a hip pointer for the last little while. Actually, a hip flexor. Kevin Deneens out with that ankle injury. And the most recent scratch is Michel Goulet, who has a knee-on-knee problem. There's Yevgeny Bieloshekin, who will be in goal for the Soviet Union. He started the first game and lost to Sweden, hasn't played since in the tournament. And the Soviet lineup, they have a scratch or two themselves. They'll be shooting against Grant Puer of the Edmunds Oilers. Well, not playing will be Kravchuk, who has a knee problem, and a rather serious one that may keep him out the whole season. And also not dressed, they'll be Yevgenov. Grant Puer from the Edmunds and Oilers having an outstanding tournament. Four games and a 2.5-0 goals against average. Three victories and a tie. The officiating crew tonight is from the United States. They're all NHL officials. Mike Noah is the referee. Gord Brossiker and Kevin Collins are the linesmen. All U.S. officials. And there's Noah, the man in charge of this game, as the referee. Canada and the Soviet Union. And the Soviets start their big line of Laryanov, Drutov, and Makarov with Fatisov and Kasatanov. He says and shows Hamilton. We start the broadcast from this Canadian city about the last game of the previous tournament on the Coupe of Canada. On the front of the S.S.S. and Canada. And the last game is the first game to be Evgeny Belashayki. The five-year players look like this. Fatisov, Kasatanov, Makarov, Laryonov and Krutov. The first attack of the Canadian team. This was a pretty dangerous attack. Our QAnheads in the half game. The first attack is Grand Fur. The two-year player is Grozman. The seventh game is Burg. The fourth game is Grand Fur. The seventh game is Menchu. The seventh game is Lefay. The third game is Selected. The third game is Wayne Gretzky. e è arrivato l'arbitatore di questa mattina è Mike Noid, un migrazio di l'amera non rispota, non risposta, non rispota, non rispota, non rispota, non rispota, non rispota. Inolvano i suoi stavolvano, non rispota, non rispota, non rispota, non rispota. e con la squadra di USA l'America 26 attropa. E' stato un braccio. Scaminski бросa il ruolo. Fiori stupendo in giro. Odbivare la schiaia. Roshfor. Merfi. Il grano in la ultima semplice in Viena. Il giusto il giusto Washington. Il giusto in giro. Il giusto i suoi ruolo. Grazie a tutti. 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 la possibilità di Lomakhin 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 il è la il è il il sono perfetta chiamat non c'è nessuno non c'è nessuno non c'è nessuno ma c'è nessuno si anderson si non c'è si non c'è nessuno non 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 Mario Allamie il Inizia 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 Nizia Essenia Inizia Nizia No No Grazie a tutti. 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 Ma in questa strada non è impossibile rirvarsi. Molto vieno giro in sconazzo. Hoviercik, Makarov. Peredacca, Kassatonov. C'è un po' di più non il nostro giocatore. Grazie a tutti. 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 ... 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 Paglia non sobrava. Paglia non sobrava. Paglia non sobrava. Paglia non sobrava. Ah, 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 ah. Esa chi se stava. Momeno non sobrava. Adesso non sobrava. Ma un'okasso più per l'orozano. No, potrebbe, potrebbe in questo episodio potrebbe pauza nostro esitico. Catasono. Florionov. Perio. C'è c'è Crotov non sobrava. La squadra è stata un'opera canadze, i nostri napadati. E se si è stata un'opera, la squadra è stata un'opera, la squadra è stata un'opera. 30 secondi, proprio dopo, è stato un'opera in questo momento, si è stato un'opera per la squadra di Granta Führer. E già il partnere non è andato a la scuola. la nostra squadra più di più di più di più di velocità Stilno Makarov Peredica, un pollo, go Krutov con la caglia e la caglia in ruota 2-1, scuola di Tavosca, un pollo, scuola di Tavosca, una scuola di Tavosca, un pollo, scuola di Tavosca. ancora una combinazione la squadra Maka, guarda, guarda, non è potente non è potente Harburg, quattro, non è potente per la squadra non è una combinazione non è importante non è possibile con la squadra capitan della squadra U.N. Goretzky il suo rispimento è stato molto bene però non è stato permesso in un segno ma in un segno è stato un segno che non potesse non potesse anche meno è stato un segno quando è stata la prima scena Gussаров Chomutov Oh, perdite, è stato il Cipilino Chomutov 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 La prima minuta del terzo periodo è per la nostra squadra. Ma che il ragazzo della squadra è stato molto bene, non solo la squadra della squadra, ma anche la squadra della squadra, ma anche la squadra della squadra della squadra. La squadra di Gelaшейkina. La squadra di Gela Grazie a tutti. 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 ... 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 ...... ...... ... non c'è abburgo e cofie non c'è nulla non c'è nulla non c'è nulla prima non c'è nulla non c'è nulla non c'è nulla non c'è nulla che c'è un match 6-1 in uso di canadone non c'è questo è già non c'è ma ora ci sono stati che non sono stati che non sono stati che non sono stati dovrebbero essere stati in zona l'occhio l'occhio attraverso l'occhio bisogna più vicino attraverso l'occhio 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 Bacca Non è molto Mario Lumiere Il giocatore non c'è la nostra zona Non c'è l'euro, non c'è l'euro. Grazie a tutti. 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 2-3-1. Grazie a tutti. 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 e... e... ... 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 ...... ...... Через 20 secundi ostraffovano e vedo il l'alletto. Merfi. Fittizov. Buon appetito. Grazie a tutti. 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 quindi bisogna poterci i vorti, poterci i vorti, poterci i vorti, poterci i vorti. I vorti sono stati in un modo di giocare, ma per il gioco. Per il gioco è stato un gioco per il gioco. Roshpor, Kreski Moldez, Golašikin Nado uspiti, queste 1-e minuti Ocino attacchiano Atacchiano Sannacchia команda Prakin Borg Stabilizionale aborona Borg Stabilizionale aborona Germar ecco L'amagin Mario Lemie 11 minuti 40 secondi resta da canta scelta 3-2 in пользa Sborda Sosio Il primo periodo, nel 6 minuto, Anderlsen ha avvicinato il risultato, ha avvicinato il risultato della scuola. Il primo periodo è passato con il primo periodo della scuola della scuola della scuola della scuola della scuola della scuola della scuola. Abbassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassass mi ha detto che il nostro comando è venuto Stiglino Makarov Mesana è stata una traccia che ci sono una l'alda è Burov, Khamensky e Makarov ma comunque Khmutov mi ha detto mi ha detto mi ha detto Comienzzi Inoltre, Makarov non ha cambiato Chumutov solo che fu fuori nel lato Bajkov bravok non è venuto bravok bravok la posizione prima di cui vrata 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 nemcino ... No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Quasi non ha mai significato per la squadra, ma è stato un match molto bolloso, anche molto bolloso. Coffi. Bredge. ma chi chiede più di più la grado di grado non ciò che non è possibile per l'armi spettare la scuola non, non, non non è il corso il corso non si è il corso il corso del corso il corso del corso il corso che è stato il corso del corso il corso del corso Grazie a tutti. 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 ... 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 Grazie a tutti. 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 ... 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 il risultato il risultato e ora il risultato ma un'altra un'altra è un'altra una un'altra in un'altra in questo caso in la competenza NHL nel senso il suo 2 volte più 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 60 e 2 e 121 più 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 non è già più 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 quindi se non è più 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 non è più difficile anche se non è più Grazie a tutti. 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 Grazie.